Ormai è un anno e mezzo che lottiamo con il governo e con tutto l'indotto. Noi imprenditori siamo praticamente morti, non riusciamo più a venirne fuori. Un anno e mezzo senza stipendio, un anno e mezzo senza pagare le fatture, cantieri bloccati, clienti in rivolta e non sappiamo come risolvere. Non c'è stata una sola risposta oggettiva dal governo su questa questione, una soltanto. Qual è il problema più grande? I crediti incagliati, le persone che non sono riuscite a completare i lavori e che adesso si trovano senza casa e senza soldi ovviamente rispetto a quella che è una legge che comunque lo Stato aveva voluto. In realtà è partita dai crediti incagliati, le conseguenze sono state tantissime. Le imprese che si fermano, i clienti che non sono soddisfatti, persone che non sono riuscite a completare i lavori, sono tante le conseguenze. Quindi oggi dare la colpa solo ai crediti o ai tempi o alle prove non è sufficiente. Bisogna rivedere tutto, trovare una soluzione reale a questo problema che si è ingigantito in maniera esponenziale. Qual è la soluzione reale? Perché il Ministro Giorgetti non vuole concedere proroghe. C'è un pressing forte di Forza Italia, addirittura però non verrebbe accettato neanche il sale al 70% e forse si parla di un decreto ad hoc. Oggi peraltro c'è un Consiglio dei Ministri. La vera soluzione è quella di risedersi a tavolino e vedere esattamente i numeri che sono rientrati da questo provvedimento. Quindi non parlare solo ed esclusivamente dei costi per lo Stato, ma se ci sono stati e noi risulta che ci sono stati dei reali benefici, cominciare a tirar fuori anche quei numeri e insieme capire come risolvere. Perché per completare 30.000 cantieri, 30.000 condomini non sono sufficienti 3, 6 mesi, 8 mesi. C'è bisogno di ristrutturare un decreto ad hoc, una legge ad hoc. I condomini hanno degli importi importanti. Un 20-30% degli importi condominali, che parla di 200-300.000 euro, non sono risparmi che una persona comune detiene. Ecco perché i condomini sono quasi tutti fermi. Mentre le villette, in qualche maniera, probabilmente i clienti sono riusciti a sistemarle. Chi è riuscito ad ottenere la seconda classe energetica? Quindi lo scatto di due classi in qualche modo è a riparo? La legge mi pare che parli che entro il 31-12 ci devono essere completati tutti i lavori, quindi asseverati il 100% dei lavori. Nonostante la certificazione della seconda classe energetica? Esattamente, sì. Tutto l'indotto deve essere chiuso, fatturato al 31-12. Quindi tutto il lavoro deve essere completamente finito. E devono aver superato le due classi energetiche. Se questo non avviene, si ha un problema col fisco, perché bisogna restituire la parte che non si è completata.